Quest'anno il sostizio d'inverno cade almeno qui in Europa il 22 di dicembre contro l'usuale data classica 21. Il sostizio è uno dei quattro appuntamenti che scandiscono il ritmo della stagionalità qui sul pianeta Terra ed è sempre un appuntamento molto importante. In particolare il sostizio d'inverno è il momento in cui noi percepiamo che la luce è più lontana, la luce però visibile è più lontana dal nostro contatto percettivo ma è il momento più importante per entrare in contatto con la luce invisibile, quella che ci permette di vedere oltre l'apparenza delle cose. In un anno come il 2023 che era orientato proprio a questo, a riuscire a vedere non con due ma con tre occhi, direi che quanto ci propone la mappa di questo sostizio è assolutamente coerente. E da qui il titolo, cogli l'invisibile. A tra poco. Benvenuti a Oltre il Velo, a questo episodio dedicato al sostizio di inverno del 22 dicembre 2023, primo di una serie di appuntamenti che mi vedranno chiudere questo anno così veramente topico per la nostra transizione verso il nuovo paradigma di realtà che l'essere umano è chiamato a mettere, diciamo così, in azione a iniziare dai piccoli primissimi passi di questi anni. Come sempre ringrazio tutti coloro che seguono il canale, che divulgano i contenuti e che seguono anche il canale Telegram Oltre il Velo 6 a Cifra. Il sostizio d'inverno, come dicevo in apertura, quest'anno accade il giorno 22 per una questione appunto di ritmi, di calendario che è basato sui 365 giorni, tra l'altro il prossimo anno sarà anche un anno bisestile, 366, e in particolare qui in Italia avverrà alle ore 4 e 27, mentre io per analizzare la mappa, come sempre, mi riferisco alla latitudine, diciamo così, al meridiano zero, dove noi convenzionalmente come umanità ci riconduciamo per darci la convenzione del tempo, il tempo che di fatto è la dimensione spazio-tempo su cui noi percepiamo tutto il toccabile, il visibile, l'udibile. Questo sostizio cade in un momento estremamente topico, in un mese di dicembre, che proprio nell'articolo su Telegram avevo detto che per me dicembre è sempre stato un mese magico, perché a un certo punto accade, senza che io non me ne possa rendere conto, che percepisco qualcosa, percepisco una vibrazione che in passato non sapevo bene come spiegarmela, ma che col tempo, insomma, a cui ho dato una serie di spiegazioni che ovviamente sono quelle che posso dare con il mio sistema di credenze, con il mio sistema di conoscenze, eccetera, eccetera, cioè nella fenditura della mia illusione con cui guardo il mondo in questo momento. E devo dire che dicembre mi sta riservando tantissime sorprese, proprio perché come tutti noi, anch'io mi ritrovo ad avere tutta una serie di strutture che stanno collassando e per quanto io mi prodighi a, come dire, ricevere delle informazioni che con il mio piccolo cerco di trasmettere e decodificare con il mio linguaggio, con il mio modo, però mi vedono ovviamente coinvolta in questo processo e devo dire che trovo veramente molto utile andare a riascoltare i miei stessi video e ad accorgermi come quando trasmetto determinate cose io stessa non mi renda totalmente conto di quello che sto dicendo, perché anche, cioè a distanza, realizzo che effettivamente sono stata travolta da queste cose che volenti o nolenti stanno trasformando tutti noi, perché mi piace proprio avere l'immagine che non siamo, non abbiamo un punto di arrivo, ma siamo in costante movimento e trasformazione e quando ci fossilizziamo, ci fissiamo su un punto d'arrivo è il momento, è il modo migliore per rimanere sempre con questo stato di attesa, questo stato di insoddisfazione che praticamente ci rende schiavi del tempo. Allora, questo solstizio è per me, per come appunto interpreto gli archetipi e simboli che vi sono contenuti attraverso l'astrologia, mi parla proprio di una grande spinta e questa sarà poi il, diciamo così, la leitmotiv di tutto il 2024, a cui dedicherò un episodio, però prima dovrò fare quello dedicato al plenilunio in cancro del 27 dicembre, San Giovanni. Leitmotiv è proprio quello di una grande impulso a livello cosmico per espandere i nostri orizzonti per aprire la nostra coscienza a qualcosa che non può essere contenuto all'interno di scatoline, infatti l'ultimo novilunio di quest'anno è stato quello del 13 di dicembre, Santa Lucia, che io avevo intitolato, ho intitolato venti in poppa e questi venti che ci spingono ad espandere le orizzonti saranno un po' il sottofondo e soprattutto nei primi mesi, ma non solo perché poi vi racconterò nel 2024 le varie caratteristiche. E allora in questo sostizio io ci vedo veramente una nota di sottofondo, che è quella che ci sta accompagnando tra l'altro in questi anni, che è quella che tra l'altro io ho esemplificato, ho avuto come dire un'intuizione di esemplificare con il simbolo del bersaglio e cioè accorgerci di tutte le voliere all'interno del quale noi voliamo pensando di essere liberi, a cominciare proprio dai sistemi di credenze. E uno delle più importanti è quello che ci limita, ci vincola a sentirci solamente materia. È un discorso che ho fatto più volte perché comunque è un discorso che ci sta accompagnando, ma in questo sostizio è proprio una spinta forte a creare una connessione tra cielo e terra, un ponte a realizzare che c'è qualcosa che agisce oltre noi, cioè il potere dell'invisibile. Quel potere dell'invisibile che quando noi riusciamo a cogliere, ecco da qui il tito, a cogliere essere in azione, ci spinge veramente a rimanere come meravigliati a bocca aperta e dire ok, seguo il flusso, mi faccio trasportare perché davanti a me verranno messi tutti gli elementi concreti per permettermi di agire. Allora siccome appunto questo processo nel quale siamo prevede lo smantellamento, il collasso della vecchie strutture che è già in atto e che metaforicamente rappresenta quello che sta accadendo anche all'interno di noi, se noi continuiamo a guardare quello che accade all'esterno non ci rendiamo conto dell'enorme processo di trasformazione che accade in noi e che tra l'altro si manifesta molto anche a livello corporeo perché abbiamo tantissime memorie cellulari nelle quali le vecchi, vecchi schemi, soprattutto vecchi traumi, si sono condensati, cristallizzati, quindi è veramente un processo importante e sta a noi dare la risposta su come viverlo, se piangerci addosso, se sentirci vittime di qualcosa di più grande o invece se sentirci trasportati da questo qualcosa di più grande, da questo vento che in poppa ci spinge verso il nuovo mondo. Quindi ci sono vari elementi che si intravedono nella mappa che sono ciò che lavora al contorno per continuare l'opera di smantellamento e ciò che invece sta già emergendo e che ha i suoi tempi ovviamente di manifestazione. Allora ecco la copertina che ho voluto fare per questo episodio che appunto è questo sch, come il silenzio, perché l'invisibile lo possiamo cogliere, questo uomo che coglie la stella perché noi dobbiamo portare, creare il ponte tra cielo e terra, tra ciò che crediamo sia separato di fatto e la grande realizzazione che ci spinge a fare e come impulso questo portale del sostizio che ha il suo impatto per i prossimi mesi fino al successivo portale che sarà l'equinozio di primavera, è quello di realizzare che tutto ciò che si appare sulla forma, cioè che oltre la forma c'è una non forma che agisce e che tutto quello che si cristallizza deriva da qualcosa che ha una sua causa oltre il velo, oltre il visibile. Ecco perché appunto questo gioco di parole cogli l'invisibile, perché non è qualcosa che si coglie con la forza, ma si coglie nei momenti di apertura, quando ci fermiamo, quando stiamo in silenzio, quando contempliamo quello che sta accadendo nella nostra vita e cerchiamo di non vederla sempre nella solita matrice di interpretazione che è praticamente quella che ha costituito la nostra personale fenditura di illusione, che è un'immagine che ho già usato nel novilunio in sagittario. Allora io andrei subito a commentare la mappa di questo avvenimento, mostrandovi però prima quello che vi avevo già illustrato nel video dedicato a Mercurio retrogrado, che è appunto uno degli elementi che caratterizza il passaggio dell'anno e quindi sarà ovviamente anche durante il sostizio e per inquadrare l'insieme di movimenti che si sta svolgendo in questo momento. E allora andiamo subito a vedere questa immagine che vi avevo già illustrato all'epoca. Allora il sostizio si colloca qui, 22 di dicembre. abbiamo già avuto Mercurio che ha creato degli aspetti diciamo così con i pianeti lenti, di cui vi ho già parlato in quell'episodio e siamo all'interno di un periodo in cui c'è una IOD su Sedna, cioè su una delle due sprotocollatrici che stanno operando per creare sempre più incertezza. L'incertezza che per la nostra mente è qualcosa da evitare perché non sa più da che pesci pigliare, da un altro punto di vista è il modo in cui noi siamo allenati a sviluppare altre percezioni che sono le percezioni che non si basano solo su ciò che possiamo pesare, toccare e misurare. Perché se il cambio di paradigma, l'apertura, l'espansione di coscienza è verso facoltà che l'essere umano può sviluppare, è ovvio che si sviluppano se vengono stimolate, se vengono allenate. Quindi l'incertezza è uno dei modi con cui il menù cosmico ci sta allenando a mollare i vecchi parametri di interpretazione della realtà. E come vedete in quest'altra, successivamente avremo il secondo passaggio di Mercurio sul centro galattico, quindi ricevendo ulteriori codici da questo centro della galassia attorno a cui quindi ruota anche il nostro sistema solare e quindi simbolicamente rappresenta un'espansione dell'orizzonte. Non ruoto più su un piccolo sistema, ma ampio il mio raggio di considerazione di quello che può essere reale. E poi il 27, questo sarà un altro episodio, ci sarà il plenilunio in cancro, che è molto importante. Mi sono andata ad ascoltare il seme di quel plenilunio e anzi vi suggerisco se avete piacere, voglia, tempo di fare questo ripasso, perché a me è servito tantissimo, che era portali o portali con te, perché appunto maturerà proprio il 27. Quindi siamo addirittura d'arrivo a vedere se siamo riusciti a non fare, a non creare quel guscio di preservazione nel quale io stessa stavo cadendo, devo dire la verità. Quindi mi è servito moltissimo. In quel plenilunio avremo di nuovo un'altra quadratura di Mercurio con Nettuno, quindi una rottura del nostro sistema di credenze, perché Mercurio nel frattempo è ovviamente entrato in Sagittario, con Chirone che tornerà diretto. Per poi chiudere l'anno con il nostro amico Giove, il portatore del bersaglio, sul grado quinto, che è quello che troviamo anche nel sostizio, che è quello che parla del ponte a sbalzo, quindi ci porta ad espandere i nostri orizzonti per fare un passaggio verso il futuro. E in quello stesso giorno avremo anche Marte, Marte sul centro galattico. Quindi c'è una carellata di pianeti che passa sul centro galattico, perché ovviamente ci passerà anche il Sole, ci passerà prima del sostizio. E ricordo che quei cinque gradi dove Giove appunto adesso è fermo e dove torna diretto sono quelli dell'eclissi che abbiamo avuto, l'ultima eclissi in toro, che era quella della... adesso spogliati e non ci casco più, ecco, non ci casco più nei tranelli del passato. Allora andiamo a vedere la mappa di questo solstizio. La mappa ci mostra, vedete io l'ho fatta per Greenwich, ci mostra la IOD di cui vi dicevo, la IOD su Sedna, è esattamente questa e la cosa fondamentale che noi dobbiamo considerare è che viene creata proprio dal Sole e da Mercurio, Sole e Mercurio che sono congiunti. Quindi è come dire, è la spinta a uscire dalle ruote, perché 29 gradi del toro dove si trova Sedna è la ruota del pavone con tutti gli occhi, quindi uscire dalle nostre dinamiche di relazione con la Terra, con la materia, proprio come spinta di questo solstizio, di questo portale. E il fatto che in questo solstizio ci sia Mercurio congiunto al Sole, Mercurio retrogrado, quello che sta facendo il viaggio per creare questa espansione di coscienza, di rivedere determinate cose, infatti l'episodio, io lo avevo intitolato quello di Mercurio retrogrado e requisiti per il futuro, abbiamo, è altrettanto significativo, quindi tutto si collega. Però l'analisi della mappa mi piace farla partendo da questo punto, perché se voi osservate praticamente la linea di demarcazione di questo collegamento costante che Haumia e Sedna hanno in questi anni, che a me è piaciuto chiamare le custodi di questo processo, di questo passaggio, al di sopra di tutto ciò che si svolge qua sotto, abbiamo, a parte appunto questi due pianeti, asteroidi, in realtà uno è un asteroide, uno è un punto calcolato, cioè Lilith, abbiamo Caos. Caos ha un grado del cancro, cioè il processo inevitabile del caos creativo e tra l'altro la tematica del caos sarà presente anche nel 2024 attraverso uno degli angeli che sono collegati a questi numeri, il numero in particolare 26, perché il 2024, calcolato come anno spirituale, è un anno 26. e quindi è come se da Caos e anche da Vesta, che poi tra l'altro Vesta è sui 29 gradi dei gemelli, quello che parla di bellezze al bagno che sfilano in costume, quindi ci sarà una sfilata di situazioni che devono creare scompiglio, perché l'unico modo per aprirci a nuovi orizzonti e considerare che tutto ciò che esiste ha la sua origine oltre il velo è mettere in discussione le nostre certezze. E quindi questo caos va direttamente in opposizione a dove si trovano Sole e Luna, scusate il Sole a zero gradi e Mercurio, quindi come dire, per lavorare su questa riorganizzazione, riflessione di quelle che sono le nostre schemi che ci rendono, come dire, ci rendono con un pensiero di tipo concreto, materialista, che ha bisogno però di espandere e di tagliare determinati paletti e infatti vedete che poi il Sole con Mercurio creano un bellissimo aspetto, le righe blu rappresentano qualcosa che avviene in maniera facile con la Luna anch'essa a zero gradi però del toro e Saturno a due gradi dei pesci. Questo aspetto lo possiamo considerare come un qualche cosa che può permetterci di, vedete, zero, di partire da zero nel nostro rapporto con la materia collegandoci a una comprensione trascendente di quello che opera appunto oltre il velo e quindi è come se noi dovessimo tagliare i sistemi di credenze su che cosa è la materia, i sistemi di credenze che separano spirito e materia che sono profondamente cristallizzati nelle nostre memorie perché anche se io studio faccio dei percorsi comprendo che effettivamente c'è qualcosa oltre però siamo fortemente identificati in questa sostanza e c'è bisogno di una profonda processo di trasformazione e di purificazione di detossicazione ok? non è forse il termine più esatto di quelle memorie che sono rimaste dentro di noi e infatti Saturno qui purtroppo mi è uscita rossa perché il programma ha fatto ha fatto lui i collegamenti ma Saturno è in un bellissimo trigono con Haumia che è diciamo così l'archetipo del partorire qualcosa di nuovo e abbiamo detto che Sedna e Haumia sono le custodi per far sì che noi riusciamo a partorire un'umanità e non i mostri del passato quindi la comprensione di avere qualcosa che c'è qualcosa di oltre che guida tutto prevede anche che noi ci disintossichiamo ci detossifichiamo di tutto quello che è rimasto a livello cellulare e quindi sono importantissime tutte quelle pratiche che permettono energetiche che permettono di lavorare su questo livello sul livello proprio delle memorie cellulari perché come dire è come alleggerire un po' il campo di queste cose che si sono solidificate al nostro interno quindi io ci vedo anche lo sviluppo di tecniche energetiche alternative per il benessere delle nostre cellule quindi della nostra salute e un'altra cosa vedete che invece Saturno è in quadratura con la Sedna perché la Sedna ci dice arrenditi allo sconosciuto e la resa allo sconosciuto fa paura vi ricordo che Saturno in pesci è portatore di tutta una serie di paure che noi temiamo arrivino da non si sa dove ok perché Saturno in pesci ci dice cosa ti sei fatto lì dentro ci sono tutti i condizionamenti religiosi cioè di una religiosità di una spiritualità che ha creato un dio a immagine e somiglianza dell'uomo e quindi lo ha contenuto all'interno di concetti di paletti e che si sono intrisi nelle nostre memorie e quindi noi di fatto tutti i traumi che ci portiamo e che sono stati tramandati di generazione in generazione sono solo delle risonanze con un trauma molto più grande che è quello di sentirci separati dalla sorgente e quindi siamo potenzialmente delle bombe traumatiche ambulanti quindi c'è un lavoro importante da fare sulla comprensione di chi siamo veramente ma anche sulla guarigione delle nostre dinamiche di traumi quindi utilizzando e rivolgendosi operatori capaci e responsabili responsabili di quello che fanno per operare questa purificazione di tipo purificazione guarigione di tipo cellulare ok e un'altra cosa importante è che questa IOD lavora anche per rompere tutto quello che noi abbiamo creduto sia il benessere perché il benessere non può prescindere da contenuti come dire di di mutua di mutua soddisfazione cioè il benessere che noi abbiamo incamerato come credenza è che dobbiamo guadagnarci qualcosa e nel farlo spesso priviamo qualcun altro del benessere cioè il sistema competitivo il sistema che noi vediamo che è stato realizzato nel nel mondo è una controimmagine di un di un pensare di un credere che ci sia sempre contrapposizione tra gli esseri umani che se io guadagno qualcuno deve perdere ecco che è proprio come è strutturato il sistema il paradigma della sistemi economici che sono stati messi in piedi perché si basa sulla sulla limitazione delle risorse e questo è un processo importante che dobbiamo fare dentro di noi perché dentro di noi ci sono queste credenze e infatti mercurio in questo sostizio si trova a un grado del capricorno che un grado del capricorno sta a indicare come simbolo sabiano una cattedrale gotica con tre rosoni di cui uno rovinato dalla guerra cioè la cultura della guerra la cultura della contrapposizione le guerre interiori che sono dentro di noi sono ciò che ci impedisce di aprire gli orizzonti perché siamo sempre all'interno di questa visione che contrappone ci contrappone gli uni agli altri invece che essere qualcosa che include perché la vita e l'amore includono non escludono e separano allora se questo è il processo messo in atto abbiamo visto che caos si oppone a sole e mercurio ma crea un queen con plutone e plutone infatti alla fine del capricorno ha il compito di come dire creare quegli scuotimenti per favorire la morte ma anche la rigenerazione delle vecchie delle nostre vecchie dinamiche dinamiche di schemi di potere di schemi di gestione della vita quindi poiché è in quadratura con questa luna mi sta a significare che il processo è emotivamente importante perché se questo vento di cambiamento poi arrivo a urano questo vento di cambiamento questa spinta che l'universo il cosmo ci vuole dare per comprendere che non siamo solo concretezza e questo lo vediamo proprio chiaramente in questo piccolo trigono perché abbiamo due segni di terra toro e capricorno con saturno che fa da contrappeso che praticamente è la dimensione dell'amore cosmico ok cioè di pesci quindi dice inserisci nel tuo sistema di materia la dimensione spirituale pesci quindi qui è proprio la vera colonna vertebrale spirituale che possiamo sviluppare e quindi emotivamente se il processo prevede venti in poppa svantellamento anche da parte delle nostre singole vite chiusure di dinamiche chiusure di relazioni chiusure di metodi abitudini che non sono più rigenerative sappiamo che si fa fatica ci sono le resistenze c'è la pesantezza in tutto questo e quindi al contorno di questo movimento innescato da caos vediamo da una parte urano che lavora ovviamente per spingere questo vento che sbuffi di nuvole a forme di ali questo vento che è in contro è una forza dirompente è una forza dirompente qui ovviamente le condizioni sono molto diverse dagli anni precedenti dove invece c'era proprio questa pesantezza e allora qui lo vediamo opporsi a Venere ok e creare un Queen Kong con Marte l'opposizione a Venere sta a significare che c'è come accadono questi movimenti con rotture rinnovamenti rivoluzionamenti del sistema economico finanziario ma anche di sistemi relazionali vi faccio notare che Venere si trova sui 20 gradi dello Scorpione dove abbiamo avuto il Novilunio in Scorpione quello che avevo intitolato risucchio di coscienza e che parlava di un riorientamento della volontà se quello era il seme questi sono i movimenti che al contorno stanno operando per spingerci a agire in quella direzione del seme che ogni seme matura sei mesi dopo e a sua volta Marte cioè i due pianeti che fanno un aspetto con Urano Marte è a 20 gradi del Sagittario 20 in poppa vi ricordo il Novilunio cambio togliersi gli occhiali il cui inconstra Marte in Sagittario e Urano in Toro è proprio una spinta a liberarsi del sistema di credenze su che cosa è la materia su che cosa è il benessere Toro quindi una forza a rompere determinati paletti ok quindi a a comprendere ad espandere gli orizzonti a lanciare la nostra feccia oltre però la cosa interessante di questi due cioè Marte e Venere che si trovano sui gradi degli ultimi due Noviluni del 2023 20 gradi Scorpione 20 gradi Sagittario vi faccio vedere la meraviglia di quello che succederà poi nel 2024 e ovviamente sarà oggetto di quel video però già ve lo anticipo e l'ho messo qui sotto perché Marte vi ricordo che Marte e Venere quando Venere è andata a retrograda l'estate scorsa e io ho fatto tutti quei video Leone a lezione di sovranità c'era una danza tra Marte e Venere che hanno fatto il viaggio in Leone e poi sembravano che si toccassero invece Venere quindi non si sono congiunti e Venere si è fermata a 28 gradi del Leone e quindi è tornata indietro mentre Marte è andato avanti e ho detto si ritroveranno a febbraio 2024 ecco siamo all'interno di quel movimento perché è la riorganizzazione delle energie maschili e femminili che è una parte importante di questo processo che stiamo vivendo ebbene Marte che è più avanti di Venere ovviamente proseguirà e il 14 di febbraio giorno di San Valentino si congiungerà a Plutone in acquario perché Plutone tornerà in acquario in gennaio interessante quindi la distruzione di dinamiche del maschile che non sono compatibili con l'energia dell'acquario tre giorni dopo il 17 di febbraio arriverà Venere a incontrare Plutone sempre a zero gradi ovviamente i minuti sono diversi quindi il maschile e il femminile che già si erano incontrati Marte e Venere con Plutone l'anno scorso e nel 2022 nel 2022 in Capricorno e quindi lì c'erano le vecchie strutture le vecchie dinamiche del maschile femminile che sono state rimesse in piedi perché la trasformazione accade vedendo come agisco perché io possa rendermi conto che sta agendo ancora qualcosa attraverso di me adesso si congiungono a Plutone in acquario quindi Venere sarà tre giorni dopo il 17 di febbraio quindi anche qua distruzione di schemi che hanno che fanno parte del nostro femminile perché sono due lati della stessa medaglia che devono cooperare non si devono contrapporre ok dobbiamo creare una cooperazione un equilibrio ma la cosa magica è che il 22 di febbraio cioè esattamente tre mesi dopo al 22 di dicembre Marte e Venere si congiungeranno a 6 gradi e 57 dell'acquario che oltre ad avere io il mio sole lì quindi lo sento molto questo processo è il punto del nodo sud degli Stati Uniti che sappiamo sono fortemente sollecitati in questo processo di riorganizzazione delle forze in campo ma la cosa meravigliosa è il simbolo sabiano di questi 6 gradi dell'acquario che poi è allo scadere dei 6 gradi però sono sempre 6 gradi e 57 primi il simbolo sabiano è un bambino viene visto uscire da un uovo la mutazione nell'essere umano allora attenzione apriamo bene le orecchie perché questo sarà un argomento di quando vi parlerò del 2024 perché è fondamentale la nostra coscienza la nostra responsabilità la nostra colonna vertebrale spirituale vedete io posso manifestare questo è il trigono tra sole mercurio che sta riorganizzando riflettendo su determinate cose che riceverà tutti i codici galattici ok nel suo viaggio per avere i requisiti di accesso al futuro la luna e giove espandere la nuova terra creare il ponte e quindi è necessario fondamentale la struttura spirituale la struttura diciamo così la sostanza spirituale vedremo che saturno nel 2024 per quanto vi sembri viaggiare per i cavoli suoi perché non fa aspetti importanti non farà aspetti con altri pianeti lenti ma sarà sempre importante perché sarà presente in aspetti i clou nelle eclissi nelle quattro eclissi del 2024 allora dicevo qui apriamo bene le orecchie perché il simbolo sabiano di quei sei gradi può essere ci dà anche la chiave se vi leggo tutta la descrizione la chiave di che cosa potrebbe provare l'emergenza di nuove mutazioni in accordo con i grandi ritmi del cosmo allora attenzione perché la spinta ad espandere a rinnovare al futuro sbornia futuristica richiede la nostra responsabilità a non farci appunto ubriacare dalla smania del futuro perché la mutazione può essere anche come dire fuorviante ok fuorviante perché la mutazione dell'essere umano ma io ci vedo la mutazione veramente della coscienza che si eleva perché perché io sento proprio che il livello la percezione che ho è che il livello anche se sembra e tutte queste linee tutti questi quincons che sono presenti che rappresentano l'invisibile me lo confermano anche se non si vede ma la coscienza si sta elevando perché bastano pochi individui che sono in grado di diventare recettori creare questo ponte con il nuovo per sollevare tutti e questo è il fare l'umanità perché anche se l'altro non ci arriva intanto lo fa chi può farlo con la sua coscienza e allora un altro movimento alattere di tutto questo impulso è che via via senza che ce ne rendiamo conto linea tratteggiata del quincons cioè non vedo fuori dalla mia visuale delle relazioni usciranno di scena vecchi modelli vecchie relazioni verranno dissolte Nettuno portate via quindi noi dobbiamo solo vivere il processo con la fiducia che la trasformazione accade attraverso di noi noi siamo attori importantissimi perché il fatto di non reagire il fatto di comprendere che cosa sta accadendo il fatto di dire io sono qua e colgo l'invisibile colgo questi movimenti che sento accadere dentro di me riporta darà una grande fertilità qui ci sarà qui c'è la seconda iod quella gialla che punta proprio sul nodo nord per questo che dico che è la spinta inevitabile il nodo nord a 22 gradi del ariete parla di una donna incinta con un vestitino fiorito quindi la fioritura di qualcosa di importante di questa umanità che accade nel momento in cui noi seguiamo la nostra coscienza 20 gradi della venere un soldato vedendo la sua coscienza resiste agli ordini e sviluppiamo diamo forza al femminile giunone 20 gradi della vergine una squadra femminile di basket e tutto infatti l'altro elemento che mi dà la sensazione che veramente siamo spinti verso questo nuovo questo ponte che si sta creando è che il nodo nord è ancora congiunto ad eris ed eris è con lei che rimette le cose al loro posto rimette le cose al loro posto quindi rimette a posto l'energia del femminile ma non perché si contrappone al maschile ma perché i venti di questo urano sono talmente forti che volente o nolente ti spingerà a come dire a cooperare a cooperare con queste forze in campo che sono veramente grandi e importanti ecco questo è la mia lettura del sostizio d'inverno del 22 di dicembre con tutte le chiavi insomma che vi ho dato poi avremo il plenilunio in cancro vi ricordo vi suggerisco andatevi ad ascoltare il video che avevo dedicato come seme in novilunio portali o portali con te quello con la cicogna che porta un fagottino cioè vedete tutto collegato i nostri doni la nostra capacità di aprirci a questo nuovo eccetera eccetera per chiudere poi con il video dedicato al 2024 che farò una panoramica ovviamente bene vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto ai prossimi appuntamenti ciao a Grazie per la visione!